Diminuiscono gli incidenti mortali sul lavoro grazie anche all'aumento della prevenzione. E la buona notizia che Daniele Leone ha portato all'attenzione del pubblico presente al seminario Sicurezza sul lavoro nelle costruzioni, organi di vigilanza, imprese e professionisti a confronto. Il focus, organizzato da direzione regionale INAIL Campania, ACEN e Associazione Italiana Formatori e Operatori per la Sicurezza sul Lavoro, è partito dall'analisi dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali in edilizia negli ultimi cinque anni per esaminare poi le maggiori criticità riscontrate dagli addetti al lavoro e dagli organi di prevenzione. Lo stesso Leone poi ha precisato L'aspetto migliorare è soprattutto la promozione della cultura della sicurezza. Noi lavoriamo moltissimo sui giovani perché la sicurezza bisogna proprio inculcarla sin da piccoli e il rispetto alle norme avviene in maniera automatica. Noi lavoriamo soprattutto con l'ACEN, ad esempio, per quanto riguarda istituti tecnici, proprio per geometri, proprio settoriali per creare quella cultura necessaria al rispetto delle norme. Nonostante i dati in decremento c'è ancora molto da fare per difendere i lavoratori e far emergere tutto il sommerso. A Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, già ministro del lavoro, però preoccupa la possibilità da qui a breve di un cambiamento nella gestione degli appalti. Sono preoccupato perché la revisione delle normative sugli appalti, se dovessero dare di nuovo mano libera agli appalti e al massimo ribasso, sappiamo che tutto questo apre le porte non solo al lavoro nero ma alla diminuzione della sicurezza.